Si torna in aula per uno dei filoni chiave dell'inchiesta sul crack di Banca Etruria, quello relativo al falso improspetto. La procura di Arezzo aveva infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e l'ex dirigente David Canessri. Adesso, dopo le erringhe dei legali difensori, si potrebbe arrivare alla decisione del GUP Ilaria Cornetti. Il giudice, inoltre, aveva già ammesso nel processo tutte le parti civili, circa un'ottantina di risparmiatori. Secondo l'accusa, infatti, gli obbligazionisti, clienti dell'ex Banca Etruria, al momento della sottoscrizione dei titoli, non sarebbero stati informati correttamente a riguardo. Il prospetto, redatto nel 2013 per la Consop e dunque per la platea di risparmiatori, secondo il pool di magistrati che indaga sul crack, era ingannevole, non dava conto, infatti, delle reali condizioni della banca e non evidenziava nemmeno la pericolosità delle famigerate obbligazioni subordinate, diventate poi carta straccia nel novembre 2015 a seguito del decreto salvabanche. Ed è proprio in occasione dell'udienza per il falso improspetto che i risparmiatori azzerati torneranno a manifestare. L'Associazione Vittime del Salvabanche ha organizzato un sit-in di protesta di fronte al Tribunale.